iniziamo questa novena rivolgendo il nostro cuore pieno di gratitudine al sacro cuore di gesù chi arde d'amore per noi chiediamo che il suo amore penetre profondamente nel nostro cuore e ci trasformi secondo la sua volontà preghiamo insieme nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo a me dal vangelo secondo luca chiedete vi sarà dato cercate troverete bussate vi sarà aperto perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto o mio gesù mio amato salvatore umilmente mi pongo di fronte al tuo sacro cuore che ardi di amore per me ti ringrazio per il tuo amore infinito e per aver dato la tua vita sulla croce per la mia salvezza o sacro cuore di gesù ti supplico umilmente di entrare nel mio cuore di purificarlo da ogni peccato e di riempirlo con il tuo amore divino accoglie la mia debolezza e le mie mancanze e trasforma mi nel profondo affinché io possa vivere secondo la tua volontà prego di concedermi le grazie di cui ho bisogno per affrontare le sfide della mia vita e di guidarmi sulla strada della santità sacro cuore di gesù io confido in te e ti offro tutte le mie intenzioni più profondi personali padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così interno dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male sacro cuore di gesù confido in te nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo a me capo Grazie a tutti.